Un buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la polemica sul Ponte Flaiano, perché i consiglieri comunali di opposizione hanno fatto la loro inaugurazione proprio del Ponte Flaiano, ribadendo che l'opera era stata concepita quando al governo della città c'era il centro-destra, il servizio di Paolo Renzetti. Oggi c'è stato questo taglio del nastro del Ponte Flaiano, voi avete fatto questo atto dimostrativo perché in pratica questo ponte è nato quando al governo della città c'era il centro-destra? È un atto dimostrativo garbato, molto diverso da quello di cui si rese autore il governatore D'Alfonso nel 2009 quando fu inaugurato il Ponte del Mare e anticipò l'inaugurazione del sindaco appena eletto. È un'opera che sentiamo nostra, è un'opera che però ovviamente viene consegnata domani alla città dal sindaco, da colui che indossa la fascia tricolore e questo sta nelle regole del gioco, non sta nelle regole del gioco che invece non ci sia garbo istituzionale, che non ci sia da parte del sindaco Alessandrini che subisce l'intervento a gamba tesa del governatore D'Alfonso, la sensibilità di dire in maniera chiara e forte alla città che ringraziano chi prima ha lavorato e ha creato le condizioni per consegnare ai pescaresi e non soltanto ai pescaresi un'opera straordinaria come questa. Sindaco Alessandrini, domani ci sarà l'inaugurazione del Ponte Flaiano, una giornata intensa che inizierà la mattina e poi proseguirà la sera anche con un concerto gratuito a disposizione dei cittadini. La giornata di domani si articola in due fasi, al mattino un incontro sul ponte alle 10.30 con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Rio, ci saranno delle scolaresche, vuole essere una quasi simbolica presa di possesso della infrastruttura del Ponte Flaiano per l'appunto. E la sera la grande festa, il taglio del nastro e il concerto con i Sud Sound System. Il Ponte Flaiano è lungo 85 metri, è largo 28, il suo pennone arriva a 58 metri d'altezza dal suolo. Questo ponte fa sì che coloro i quali arrivano a Pescara potranno, prendendo quello svincolo, andare direttamente nell'area centrale, nel parco centrale, come noi chiamiamo l'attuale area di risulta. Parcheggiare lì la macchina e quindi alleggerire la viabilità cittadina, perché evidentemente lo svincolo di Piazza Italia sarà fortemente alleggerito. Si calcola che ogni giorno 70.000 automobili percorrano questo tratto di strada e questo ti dà il senso di quanto questo alleggerirà il traffico veicolare cittadino. Sottolino anche che questo ponte è anche ciclopedonale, quindi non è solo per le macchine, ma anche per i pedoni e i ciclisti. Da Pescara ci spostiamo a Teramo, dove continua lo stallo politico in comune. Il sindaco Maurizio Brucchi si è presentato al Consiglio Comunale di ieri pomeriggio senza i nomi della nuova giunta che ufficializzerà solo tra qualche giorno. Tutto rimandato dunque la prossima settimana, ma cresce il malumore in città e si fa sentire il servizio di Tania Bonnici Castelli. All'ultimo Consiglio Comunale è andato in scena il discorso a braccio del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi solo e senza un esecutivo. Una ringa di 50 minuti, accorata e piena di scuse per i troppi e deleteri rimpassi di giunta che però non ha di fatto risolto la crisi politica al comune. Intanto c'è da dire che Brucchi si è presentato in aula al cospetto di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione senza i nomi dei futuri assessori che dovrebbero essere sette invece di nove e che saranno resi noti solo tra qualche giorno. Questo temporeggiare del sindaco ha però fatto nuovamente irrigidire quei gruppi di maggioranza in forte contrasto con lui e che fanno capo a Giandonato Morra, Mauro Di Dalmazio e Gianni Chiodi insieme ai 3-3 dissidenti dell'ultima ora. Su Di Dalmazio e Chiodi in particolare Brucchi ha avuto parole sferzanti e polemiche senza mai nominarli ma evocando quel modello teramo che fa proprio capo a loro e che pare lo abbia abbandonato. La futura composizione della giunta se da una parte riuscirà ad accontentare qualcuno dall'altra scontenterà altri e dunque il fine mandato di Brucchi se mai ci sarà resterà traballante e appeso ogni volta ad un filo sottilissimo. La sensazione avuta in consiglio comunale è che la maggioranza dei consiglieri non voglia il commissariamento del comune che avrebbe bisogno secondo il sindaco di affrontare presto ebbene problemi importantissimi come la ricostruzione, i 4.500 sfollati e il nuovo polo scolastico nel quartiere San Giuseppe. Durissima l'opposizione, se il sindaco pensa di realizzare il nuovo polo scolastico come sta facendo per il Corso San Giorgio è meglio che se ne torni a casa. I terramani sono allo stremo, questa guerra delle poltrone ha paralizzato e dissestato la città e ben venga dunque un commissario. Infine da sottolineare le dimissioni da capogruppo del partito democratico di Gianguido d'Alberto sostituito da Maurizio Verna. La telenovela al comune di Teramo continua per tutti gli amanti delle soppopere. Chiusa la verifica di maggioranza, il sindaco di Giulianova Francesco Mastromaura ha incassato il sì al patto di legislatura legato soprattutto alla manutenzione della città. Ora via alle consultazioni per la scelta dei nuovi assessori. Alfredo Primante. Alla fine la quadra l'ha trovata e il sindaco di Giulianova Francesco Mastromaura dopo due giri di consultazioni è riuscito a mettere d'accordo la sua maggioranza su un patto di fine legislatura che metta in primo piano la manutenzione della città. Tutti d'accordo quindi, anche il gruppo di Civicamente che non aveva votato il bilancio creando lo strappo che ha accelerato la verifica di maggioranza. Il gruppo garantirà l'appoggio esterno alla nuova giunta Mastromaura. Dopo l'azzeramento delle deleghe voluto dal sindaco prima delle consultazioni con i gruppi politici, ora i prossimi incontri a partire da quello di lunedì verteranno sui nomi a cui affidare i vari assessorati. C'è stata la rinnovata stima, volontà, fiducia al sindaco e al programma. Oggi io ho posto un altro step ai gruppi, naturalmente a quelli che vogliono entrare nell'esecutivo, ho chiesto loro di fare una riflessione in questi giorni, riconvocandoci per lunedì prossimo, intorno alle 13 ci vedremo con i due gruppi di PD e del Partito Democratico di Articolo 1, affinché mi pongano una rosa di nomi, donne e uomini, all'interno dei quali io possa scegliere le migliori risorse in termini di qualità, di impegno, di dedizione per ricostituire l'esecutivo che deve essere ancora più motivato, perché quelli che hanno fatto gli assessori e magari continuano a fare gli assessori hanno lavorato bene, chiariamo subito. Io voglio maggior impegno perché ciascuna fase dell'amministrazione comunale ha bisogno degli interpreti giusti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà all'Aquila il prossimo 21 giugno per la festa della Guardia di Finanza, il servizio di Daniela Rosone. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà all'Aquila il prossimo 21 giugno per festeggiare i 243 anni della Guardia di Finanza che si costitui, lo ricordiamo, nel 1774 nel Regno di Sardegna. Mattarella sarà presente alla cerimonia di celebrazione dell'anniversario nella scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito. Con lui ci sarà anche il Ministro delle Economie e delle Finanze Padoan e tutte le altre autorità militari, civili e religiose. La visita di Mattarella, secondo quanto si apprende, questa volta dovrebbe limitarsi alla cerimonia della Guardia di Finanza. Per la prima volta il Presidente della Repubblica venne in visita all'Aquila per partecipare invece all'inaugurazione dell'anno accademico e del nuovo Palazzo di Giustizia. In quel giorno fece tappa anche a Onna, il borgo più colpito dal terremoto del 6 aprile 2009 e nella casa dello studente dell'Aquila dove depose una corona. Torniamo a Pescara adesso perché le associazioni dei malati e del Comitato per la difesa dell'ospedale chiedono che la Regione stanzi più fondi per il santo spirito che conta in Abruzzo il maggior numero di erogazioni di prestazioni ospedaliere. Si parla di disservizi in particolare dell'ospedale di Pescara, dell'ASL di Pescara, voi lamentate diverse cose che non vanno, quali in particolare? Allora in particolare il finanziamento che ha l'ASL di Pescara a fronte di un ospedale come quello di Pescara che è il primo per le prestazioni in Abruzzo e ci sono i dati che lo dimostrano, noi abbiamo il finanziamento più basso per il personale di tutte le ASL della Regione Abruzzo e questa è una cosa assolutamente incongruente e che crea delle grosse difficoltà per i servizi che devono essere dati ai cittadini. Le persone che vengono non riescono a trovare una risposta adeguata alle loro esigenze, però la responsabilità è della Regione che sottofinanzia l'ospedale di Pescara rispetto alle altre aziende ospedaliere. Innanzitutto chiediamo un aumento del fondo stanziato per il personale perché tante persone sono andate via e non sono state sostituite, quindi la Regione deve rivedere il finanziamento per il personale dell'azienda sanitaria di Pescara. C'è l'associazione METIS, c'è l'associazione colori della vita, il comitato dei pazienti oncologici, c'è l'associazione Alzheimer Uniti Abruzzo, poi ci sono io che sono della tutela dei diritti del malato, ma c'è anche la consulta dei medici dell'ospedale di Pescara, c'è l'AIPA che è l'associazione dei pazienti anticoagulati, quindi a dimostrazione che è veramente un'unione di forze perché la situazione è diventata insostenibile. L'organico è sempre stato inadeguato, l'organico di Pescara, ma adesso proprio siamo al di sotto dei numeri. Io vorrei semplicemente dare un dato sulla radiologia, sono andati via 12 radiologi, ne sono arrivati 5. Fondi europei sì all'uso per le calamità naturali, da agosto infatti si potranno spendere per il terremoto del centro Italia, soddisfatto il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Sì dell'Europarlamento all'uso del 95% dei fondi europei per ricostruire. È arrivato finalmente il via libera definitivo dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo raggiunto a fine maggio tra Stati membri e Parlamento dell'Unione europea sull'utilizzo dei fondi europei al 95% per le opere di ricostruzione post-disastri naturali, come terremoti e alluvioni. La modifica al regolamento è stata approvata con 625 voti a favore, 5 contrari, 28 astensioni. Il testo entrerà ovviamente in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione europea. Il nuovo regolamento modifica quello sulla politica di coesione 2014-2020, introducendo un'asse separata e prioritario per le operazioni di ricostruzione, con un finanziamento sino al 95%, supportato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, il FESR. Una misura che interessa l'Italia colpire dai terremoti tra agosto e ottobre. Il regolamento si applicherà in maniera retroattiva dal 1 gennaio del 2014. La Commissione europea aveva proposto inizialmente l'uso del 100% dei fondi FESR senza una quota di cofinanziamento da parte dei Paesi, ma gli eurodeputati hanno spinto molto per introdurre un tetto massimo del 5%, a quanto può essere prelevato dalla quota FESR di uno Stato membro per il periodo 2014-2020. Il testo di modifica al regolamento sarà firmato il 5 luglio, il 25 pubblicato in Gazzetta. Il denaro potrà essere dunque utilizzato da agosto. A questo denaro si aggiungono anche i circa 1,3 miliardi del Fondo europeo di solidarietà che potranno essere impiegati a favore delle zone colpite. Un commento è arrivato anche dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. L'Europa ci ha dato un contributo straordinario per la ricostruzione, ha detto. In 270 giorni sono quasi finite tutte le verifiche di resistenza sismica degli edifici interessati, tenendo conto che ci sono stati tre terremoti e l'ultimo del 18 gennaio ha fatto ricominciare da capo tutte le verifiche. D'Alfonso ha anche detto che i soldi degli SMS, pari a oggi a 32,3 milioni di euro, sono in corso di assegnazione per i singoli progetti di adesione territoriale. In Abruzzo arriveranno 3,5 milioni, ha detto, poiché i danni sono stati il 10% del totale. I fondi delle dolazioni sono amministrati e verificati da magistrati emeriti della Repubblica. Per la regione Abruzzo il disegnato è il presidente Angelo Zaccagnini. Parliamo adesso dei premi internazionali Flaiano perché sono stati resi noti i vincitori delle sezioni letteratura e italianistica della 44esima edizione. Entrano nel vivo le manifestazioni per la 44esima edizione dei premi internazionali Flaiano. Presidente, questa mattina c'è stato un primo step con la comunicazione dei vincitori della sezione italianistica e di letteratura. Quest'anno il premio di narrativa e il premio per l'italianistica riconfermano questa parte importante dei premi con una partecipazione importante per noi che è quella della giuria dei ragazzi, degli studenti del liceo scientifico Galilei e della Università d'Annunzio. La partecipazione dei ragazzi, avvicinare i ragazzi alla lettura è importantissimo. Quest'anno abbiamo riscontrato molto entusiasmo e questo vuol dire che il progetto culturale che i premi Flaiano stanno portando avanti da 44 anni conferma la propria validità. Quindi proseguiamo su questa strada. Quest'anno, come già è avvenuto nel 2013 e nel 2014, i premi Flaiano si svolgeranno nella serata finale del 9 luglio a Piazza Salotto. Siamo molto contenti perché la partecipazione del pubblico sarà sicuramente superiore rispetto al d'Annunzio, ma coinvolgerà, così come coinvolge le piazze, i pescaresi in questa manifestazione che ormai credo sia entrata nel cuore della città e dell'Abruzzo e di tutti coloro che inamano non solo il cinema ma tutte le varie discipline, la radio, la televisione e il teatro. Eventi adesso perché sarà la star spagnola Alvalo Soler, la punta di diamante del cartellone di Estatica 2017, la Kermesse organizzata dalla Camera di Commercio di Pescara e dalla Marina di Pescara che parte il prossimo 24 giugno. Musica, teatro, spettacoli, danza, cavare e jazz e il mix del cartellone di Estatica 2017 che torna ad animare il porto turistico per l'intera estate. Ad aprire la Kermesse giunta alla sua ottava edizione, il 24 giugno prossimo sarà l'evento Solstizio d'Estatica interamente dedicato all'Abruzzo con anche la proiezione dei migliori spot dell'iniziativa Uno Spot per l'Abruzzo. Tra i numerosi appuntamenti, 42 le date in programma, il festival Concerti sotto le stelle, la seconda edizione di Mare Celtico, tre serate di cine statica, quattro con il Pescara Jets. Torna a fare tappa a Pescara anche lo street food. Il primo agosto c'è lo spettacolo di Peppe Servillo e il 6, quello di Pino Insegno e Federico Perrotta con Valentina Olla. Dal titolo c'era una volta la TV. A chiudere la rassegna di Estatica 2017 sarà la cantautrice italiana Marina Ray il 27 di agosto, ma l'ospite più atteso è il cantante spagnolo Alvaro Soler che ha conquistato ben 13 dischi di platino. Il tour estivo farà tappa ad Estatica il 13 agosto. Sarà un punto di riferimento dell'estate pescarese, siamo molto soddisfatti del cartellone messo in atto dalla Marina che è la società che gestisce appunto il porto turistico. L'obiettivo nostro era di incrementare il presente e dare visibilità a questo gioiello della nostra città. Tra l'altro quest'anno c'è anche la partnership con la Camera di Commercio di Chieti e così lancia la fusione. Il vero obiettivo della fusione è il risparmio a favore dell'economia, soprattutto a favore delle imprese del nostro territorio, di Chieti e di Pescara perché sono le imprese che finanziano il sistema camerale italiano. Per cui il nostro dovere sarà per chi rappresenterà la prossima Camera di Commercio, ma io ne sono certo perché le associazioni di categoria tutte stanno auspicendo in questa direzione, che l'investimento deve essere fatto soprattutto a favore della piccola e media impresa. Invece nei locali della Curia Vescovile di Teramo, in via San Berardo, fino al 20 giugno si potrà visitare la mostra dell'artista teramano Gianni Di Francesco, curata dal professore Nerio Rosa, un postmoderno inedito ed originale. Nei saloni del centro giovani Cairos, di proprietà della Curia Vescovile di Teramo, in via San Berardo, si tiene fino al 20 giugno la mostra del pittore teramano Gianni Di Francesco. L'allestimento è stato curato da Alvaro Paternò e per la parte critica dal professor Nerio Rosa, che da sempre apprezza questo giovane artista per quel suo non utilizzare tradizionali elementi descrittivi, un postmoderno, tutto da ammirare. Che novità c'è in questa mostra di Di Francesco? In questa mostra di Di Francesco abbiamo presentato, vengono presentate le ultime opere, le opere dell'ultimo periodo, nel quale l'artista, sentendo quello che comunque ci dice il nostro critico che ha seguito l'artista nel suo sviluppo artistico, ha avuto un'importante evoluzione. La tecnica è rimasta invariata, viene sempre utilizzata la tecnica di olio su tela, che è un'arte comunque, una tecnica che viene utilizzata dal XVII secolo e le opere di Gianni in questo locale sono circa 18 pezzi ed appartengono all'ultimo periodo di produzione dell'artista. La cosa anche particolare è che viene allestita dentro i locali della Curia. I locali della Curia non sono a caso e torniamo qui a Kairos, a Teramo, dopo due anni di studi, di ricerche, di evoluzioni e di altre mostre. È importante la scelta dei locali in questa città perché comunque tutte le opere di Gianni, che è un artista che si occupa di questo a tempo pieno, 24 ore al giorno e nella propria vita terrena fa solo e esclusivamente questo. Tutte le opere sono frutto e conseguenza di un'esigenza spirituale che l'artista ha avuto e ha per comunque soddisfare la propria esistenza terrena. La mostra di Gianni Di Francesco dal titolo Emergenze fenomeniche di superfici postmoderne è in lista per essere ospitata presto dalla Pinacoteca di Torino. Adesso apriamo la pagina dello sport. Iniziamo con il Pescara che sembra essere vicino agli esterni Capone e Latte Latte. I gioiellini dell'Atalanta arriverebbero in prestito. Proprio il club orobico sta soffiando al Delfino e il centravanti Luca Vido. Intanto gli svizzeri del Sion provano a mettere le mani sul capitano bianco-azzurro L'Edian Memuschail, servizio di Andrea Costantini. Luca Vido non sarà un giocatore del Pescara. Con la conclusione del Mondiale Under 20 sono iniziate le grandi manovre verso i gioiellini del Cittievani e sul centravanti di proprietà del Milan, messosi in evidenza nell'ultima parte del campionato di Serie B alla Cittadella, si è fiondata l'Atalanta. Oltre ad essere un club di A, col Milan ha chiuso la trattativa per Frank Cassi ed ha in corso quella per Andrea Conti. Insomma, si è creata una corsia preferenziale che porterà proprio Vido a indossare il nerazzurro orobico. Il Pescara può in qualche modo consolarsi sempre con una pista bergamasca, anzi una doppia pista. Quella che porta agli attaccanti esterni Emanuel Lattelat e Cristian Capone. I due gioielli della primavera dell'Atalanta sono in procinto di essere girati in prestito in rival adriatico. Interessa tanto Capone, ragazzo del 99 che ha avuto una carriera folgorante a livello giovanile e ha impressionato Zeman. Anche Lattelat del 99, Ivoriano, arrivato in Italia all'età di otto anni e si è tolto la soddisfazione di segnare una rete alla Juventus in Team Cup lo scorso inverno. A proposito di attaccanti esterni, è destinato a rientrare in biancazzurro Francesco Nicastro, che non sarà riscattato dal Perugia. Difficile che il giocatore resti a Pescara. Bucchi, che lo ha allenato quest'anno, gradirebbe portarlo con sé al Sassuolo. Per il ruolo di centravanti, fatto salvo l'innesto di Simone Andrea Gans, quale titolare del tridente Zemaniano, come cambio si torna a parlare degli attaccanti della primavera della Roma, Edoardo Soleri e Marco Tuminello. Sul fronte delle uscite si registra il forte interessamento del Sion sul capitano Lejan Memushai, che si è messo in ulteriore evidenza domenica scorsa, andando in gol nella gara di qualificazione che l'Albania ha vinto 3-0 in trasferta contro Israele. Ad agevolare l'operazione due fattori, il club elvetico ha scelto come allenatore Paolo Tramezzani, ex vice del CT dell'Albania De Biasi, peraltro proprio oggi di missionario, e poi il fatto che il Pescara si libererebbe di un contratto oneroso e pluriennale. Per la difesa sembra praticabile la pista che porta al prestito del terzino della primavera dell'Inter, Federico Vaglietti, fresco di titolo di categoria. Improbabile l'approdo di Zigno Fanoisden, sempre dalla primavera nerazzurra. E nel Lega Pro invece fumata bianca tra il Teramo e Giorgio Repetto, dopo gli attriti dei giorni scorsi che avevano quasi portato alla rottura stamattina la soluzione, la risoluzione della questione. Dunque da adesso l'ex dirigente del Pescara potrà iniziare a ricostruire la rosa, ma con qualche piccola limitazione di budget. Fumata bianca tra Giorgio Repetto e il Teramo, ormai non ci sono più dubbi e questione di ore, dovrebbe arrivare anche la comunicazione ufficiale da parte della società biancorossa. Anzi, da oggi si comincia a lavorare per il nuovo allenatore. Con Massimo Epifani destinato alla primavera del Pescara, il nome più caldo è quello di Antonino Asta, che in settimana, insieme al suo procuratore legale Cesare Di Cintio, incontrerà la dirigenza Teramana per cercare quell'accordo economico che renderebbe concreto quello verbale che già c'è. Qualche giorno fa, prima della quasi rottura, Repetto, aveva incontrato anche Vincenzo Torrente, la cui richiesta di ingaggio iniziale molto alta e sopra i 100.000 euro ha spaventato il Teramo. Neppure la possibilità di arrivare a 70 con dei premi e dei bonus legati a risultati sembra praticabile per le casse del diavolo, che in questo momento necessitano di una somma consistente per chiudere il bilancio della scorsa sanguinosa annata e ripartire verso la prossima, che economicamente parlando sarà comunque condizionata dall'investimento che Campitelli dovrà fare adesso per ripianare il buco. C'è tempo fino al prossimo 30 giugno, le due settimane che restano saranno molto impegnative per l'entourage biancorosso. Probabile dunque che nell'incontro di questa mattina, nel quale, Repetto, accetterà l'incarico di direttore sportivo, si parlerà anche di programmi di organico da rifondare, spendendo molto meno, magari valorizzando qualche giovane in più, invece di spese enormi che stanno mettendo il Teramo in seria difficoltà. A tutto questo va aggiunta la necessità di un ulteriore sborso per gli incentivi all'esodo da destinare a quei giocatori che non faranno più parte del progetto tecnico e che non hanno alcun interesse a interrompere gratuitamente un contratto in essere anche nella prossima stagione. Ecco per quale motivo il lavoro che attende il patron Campitelli sarà molto duro, stretto tra esigenze di un bilancio col meno davanti e la necessità di presentarsi ai nastri di partenza con una squadra che possa disputare un buon campionato. In questo senso l'accordo col Pescara può dare certamente una mano, visto che molti elementi del vivaio del Delfino potrebbero presto vestirsi di biancorosso per provare a rilanciare un diavolo, mai come in questo momento un po' con il fiato corto. Presidente Iannascoli, quanto accaduto il primo giugno ha avvicinato ancora di più per assurdo, per certi versi, i tifosi alla Pescara Calcio a 5, avete riempito un treno in poco meno di tre ore, domani sera ad Ancona ci saranno oltre mille tifosi del Pescara? Sì, oltre mille persone che partiranno da qui col biglietto, con il treno, cinque pullman e con i loro mezzi. Non abbiamo più pullman a disposizione e quindi queste sono le persone, gli altri dovranno raggiungerci con altri mezzi. Guarda, siamo stati tempestati, c'è stata la fila qui al palazzetto ed è stato questo chiaramente un riconoscimento importantissimo per noi, per noi come società ed è un'immagine della città di Pescara che ancora una volta è vicina a chi cerca di portare in alto il nome di Pescara. È una squadra super spremuta ma che sicuramente darà tutto e sono convinto che quando vedranno mille persone sugli spalti giocheranno con ancora più forza. Questo sicuramente perché riconosco, loro sono già partiti, sanno che ieri il treno era già pieno perché quando hanno finito l'allenamento hanno visto tutti i tifosi che erano fuori, però dopo sarà importante l'incitamento dei nostri sostenitori perché, ripeto, partiamo in questo momento per la prima volta dopo tanto tempo svantaggiati in campo. Non siamo noi la squadra da battere in questo momento ma è la luparenza e da tre anni questo non c'era mai successo. Poche ore dopo la gara di Ancona verrà discusso il ricorso che avete presentato contro questa maxisqualifica. Sarebbe bellissimo ricevere la notizia che tutto venga annullato però dobbiamo essere realistici, ci sono dei verbali, ci sono delle dichiarazioni che sono state fatte dai commissari di campo e dall'arbitro in particolare, quello che ha commesso tanti errori in quella partita è che in uno stato confusionale in campo, dopo è stato molto confuso pure nella redazione del Verbale, perciò speriamo almeno in una forte riduzione. Il Coalpi Soccer si è giudicato il titolo regionale Wisp 2017 di calcio, superata la Fucense 3 a 1 nella finale giocata all'antistadio Flacco di Pescara. Vediamo. Il Coalpi Soccer del patron Sergio Bernava si aggiudica il titolo regionale Wisp abruzzese edizione 2017 nella cornice dell'antistadio Adriano Flacco di Pescara. La squadra del Comitato Pescarese supera 3 a 1 gli Avezzanesi della Fucense grazie alla doppietta di Giovanni Di Rocco e al sigillo di Torsellini. Di Fabio Cofini il momentaneo 2 a 1 di una gara che nonostante la posta in palio. Ha profuso correttezza e fair play prima, durante e dopo gli 80 minuti di gioco. Queste le considerazioni finali di Gianfranco Pesce, mister del Coalpi Soccer. Diciamo che la partita di oggi l'abbiamo meritata sul campo e voglio sottolineare la correttezza di questa partita perché con la squadra avversaria ci siamo sentiti anche in settimana per concordare il colore delle divise. Abbiamo trovato delle persone squisite e quindi la cosa più importante di questa partita è che non c'è stato nulla a livello di contestazioni e che il clima è stato assolutamente sereno per poter disportare la gara. Per quanto riguarda la gara credo che abbiamo meritato sul campo di vincere la partita e di aver vinto il titolo regionale perché non voglio sottolineare il fatto di aver giocato due partite, i quarti e la semifinale in due cabbi proibitivi e anche in questo siamo stati bravissimi. Quest'oggi dicevamo appunto lo spirito che si è respirato per tutti gli 80 minuti anche oltre perché la foto finale con tutte e due le squadre riunite credo sia lo spot migliore per il calcio Wisp. Sì, diciamo che queste considerazioni le avevamo fatte anche dopo i quarti perché effettivamente è mancata la squadra di Teramo nella finale ma ci sono state le squadre di Pescara e di Avezzano quindi credo che tutto il movimento debba essere soddisfatto di come si è svolta l'annata calcistica perché ha dato risalto e visibilità a tutte le squadre abruzzesi e questo penso sia un aspetto importante per la Wisp. Questo era anche il nostro ultimo servizio, il telegiornale torna nell'edizione delle 19. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie.